Il cibo e il vino hanno un interesse trasversale, possiamo dire, dovunque il turista che è interessato al mare, che si è interessato alla città d'arte, che si è interessato alla montagna, alla fine si imbatte sempre nel cibo, nell'identità culturale. Il cibo è l'elemento più idoneo a raccontare un territorio. Noi veniamo spesso coinvolti dalla Regione Calabria per le varie manifestazioni, proprio perché possiamo mettere in contatto il mondo della produzione agricola con quelli che sono gli eventi nazionali e internazionali e farli conoscere un po' ai visitatori dei vari eventi. Arsac ha preso contatti, ha contattato la Federazione Italiana Cuochi, nello specifico lo chef Antonio Calipari della zona di Reggio Calabria, che lui ha disegnato il progetto, ci ha fatto un po' un menu che rappresentasse tutte le produzioni tipiche e identitarie della Calabria e noi come Arsac lo abbiamo supportato nella scelta, nel reperimento dei migliori prodotti dalle diverse aziende calabresi. In questi giorni io cercherò di far emergere un po' quelli che sono tutti gli ingredienti calabresi. Porterò soprattutto la tradizione, però giustamente sono molto affascinato dall'innovazione e quindi cercherò di coniugare i sapori della cucina calabrese di un tempo con le tecnologie, le metodiche della cucina moderna. Principalmente abbiamo pensato comunque agli show cooking perché lo show cooking è un momento di aggregazione, comunque un momento di interesse perché al giorno d'oggi comunque la cucina ha sempre un ruolo centrale, diciamo, e quindi faremo due show cooking al giorno nel quale cercheremo comunque di fare due tipologie, una calda e una fredda, comunque per riuscire a dare comunque uno spaccato su quella che è la cucina calabrese. Particolare perché un po' di gusti diversi. La cipolla buonissima. Veramente buona e adesso assaggio anche la polpetta. Buonissimo. Spagna. È buono, buono, muy buono. I'm from Japan. Oh, it's a great mix of fish and different flavors. I really enjoyed it. And the wine was buono, buono, buono. È un lavoro lungo, quello di affermare nel mondo un brand, diciamo, sulla cucina, sulla cultura gastronomica, ovviamente è un lavoro molto, molto lungo e faticoso. Noi, appunto, la regione ha avviato questo processo proprio con la consapevolezza che attraverso il cibo può presentarsi una calabria migliore. iscriviti al. Grazie a tutti.